A voi tutti ben ritrovati da Giuseppe De Vittis, questa fase bella, stabile e primaverile continuerà. Guardate il freddo, il freddo è sull'est Europa, ha sfiorato in parte le regioni adriatiche e centro-meridionali, da noi invece rimonta, piuttosto mite, di aria piuttosto calda per il periodo, quindi con temperature davvero piacevoli, anzi più che piacevoli, addirittura nelle ore centrali della giornata si soffrirà un po' il caldo, soprattutto perché siamo vestiti quasi da inverno comunque ancora, il tempo sarà bello, stupendo, con cielo prevalentemente sereno, temperature è chiaro comunque dopo il tramonto in deciso calo, infatti i valori minimi, seppur in lieve aumento, si attesteranno attorno ai 3-6 gradi centigradi, temperature massime invece guardate che tenderanno a raggiungere in alcune località anche 18-19, se non addirittura sfiorare i 20 gradi centigradi, io cari amici mi fermo qui, non ho altro da aggiungere, ancora buon proseguimento di giornata e di primavera, arrivederci!